Allora, sto protestando in quanto dall'emittente privata, da Facebook, abbiamo sentito, scaricato le restrizioni in cui il governo forte ci dice di riaprire le nostre attività. Io ho un'attività in una pizzeria che abbiamo aperto, abbiamo prelevato, ho acquistato con soldi prodotti sette anni fa, abbiamo fatto sette anni di sacrifici. Oggi stavamo iniziando a lavorare, la lavorazione si intende che facciamo l'incasso per pagare gli operai, facciamo l'incasso per pagare luce, affitto e le tasse. Se tu mi restringi del più del 50% la capienza all'interno del mio locale, sta a significare che non posso più pagare quello che pagavo prima, non solo, a quale condizione? In parole povere, nel mio locale che potevano entrare 50 persone, adesso ne possono entrare 10. A un metro e mezzo di distanza l'un dall'altro, chi va a mangiarsi una pizza non è un estraneo che invita un altro estraneo qui ad andare a mangiarsi la pizza, è un nucleo familiare, a casa stanno un metro e mezzo di distanza l'un dall'altro. Quindi che senso ha? Hanno nominato, se non erro, 650 esperti che io più che altro chiamerei dementi. Perché dementi? Perché se uno scienziato dice che il pizzaiolo deve rimanere in pizzeria a infornare la pizza con la mascherina, io invito una persona di queste che ha fatto che ha emanato questo decreto, a venire a stare 10 minuti con la mascherina all'agenda di casa, se c'è un po' che sarà un po' di camera e fa il livello.